Ciao amiche, ciao amici, vediamo in questo video quali sono i tre principi cardine per far innamorare un uomo, far innamorare profondamente. Allora, i tre principi cardine si basano su come funziona il cervello dell'uomo, il cervello dell'essere umano. Il cervello è triadico, ha tre esigenze che possono anche essere esigenze diverse, ma che comunque in certe misure vanno soddisfatte tutte, altrimenti si rischia di non coinvolgere in modo completo. Sono esigenze cognitive legate ai valori, legate alle credenze, legate a fattori culturali. Queste esigenze cognitive vanno assecondate. Se tu donna vuoi conquistare un uomo, non puoi in prima istanza proporti come una persona completamente diversa dai suoi parametri, dai suoi standard. In un secondo tempo eventualmente puoi farlo, ma inizialmente devi dargli l'idea di essere quella giusta, altrimenti non ti vedrà, come dire, come la futura madre dei suoi figli, oppure come la sua compagna di vita. Tenderà a vederti in altro modo, a classificarti in altro modo, perché la nostra parte cognitiva tende subito a etichettare, tende subito a mettere delle etichette. Non appena noi entriamo nello spazio sensoriale di un'altra persona, in qualche modo veniamo etichettati. E se tu vieni etichettato come una one night stand, da con cui passarci una notte, farsi qualche scopata e basta, sarà poi difficile cambiare. E invece se viene etichettato come una donna con la quale avere una relazione stabile, sarà poi difficile cambiare. Per cui è meglio che riesci ad entrare in questo modo. Per entrare in questo modo ci va assonanza, quindi devi essere simile, deve vederti dal punto di vista culturale, dei valori, delle credenze, deve vederti molto simile. Quindi devi ricalcare. Ricalcare vuol dire entrare nel suo mondo. Questo è il primo principio cardine. Il secondo principio cardine riguarda invece l'attrazione erotica, l'attrazione sessuale. Devi attrarlo eroticamente, devi attrarlo sessualmente, che significa che devi, invece in questo caso differenziarti da lui per quanto riguarda le caratteristiche della femminilità. Femminilità non vuol dire volgarità, vuol dire esaltare tutte quelle caratteristiche che fanno parte della femmina e che la differenziano dal maschio. Quindi ad esempio, non so, le mani molto curate, i capelli molto curati, un abbigliamento che ti differenzia il più possibile da quello maschile, un atteggiamento molto materno, morbido, muoverti in modo molto ondeggiante, ad esempio. Il tacco aiuta in questo perché ti fa un po' ondeggiare, una camminata molto diversa rispetto a quella del maschio. Evidenziare, diciamo, anche attraverso l'abbigliamento, tutte quelle parti del corpo che ti differenziano. Che non significa che devi vestirti da zoccola, significa semplicemente che devi incrementare il più possibile la femminilità, quindi curare i particolari, i dettagli che ti fanno femminile. Anche gli accessori, anche il modo di porti, abbassare il livello di aggressività. Insomma, sono tutte queste piccole, come dire, piccoli stimoli che però ti danno quel quid in più da un punto di vista, diciamo, dell'attrazione sessuale. E poi c'è il terzo punto, il terzo principio cardine, è saper dare emotività. Quindi, come visti in tantissimi video, bisogna agganciare quelle che sono le sue esigenze emotive. Questo amplificare il desiderio, negare un po' il possesso, eventualmente far vivere il senso di inadeguatezza, un po' di senso d'abbandono. Insomma, tutte le varie parti che danno emotività. Questi sono i tre principi cardine che vanno usati contemporaneamente, ma neanche nella sequenza giusta. Perché il primo, comunque, deve essere quello di dare un'assonanza cognitiva. Perché altrimenti rischi che la persona metta subito in atto dei meccanismi di difesa nei tuoi confronti, per cui il maschio, se il maschio si difende, poi diventa tutto più difficile. Come, come dire, cercare di entrare in una casa dove ci sono tutti gli allarmi, gli antifurti predisposti, le guardie col fucile, insomma, diventa tutto più difficile. Per cui è meglio tranquillizzare questa parte. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!